Io sono il principe della morte, anche Neto, sono un principe immortale, la morte e io siamo quasi la stessa cosa, io però leggendisco i video di Youtube, quali vi chiederete? Quelli più brutti, a cominciare da quelli di Giuseppe Simone, lui fa video brutti, brutti quanto il male e in lui si nasconde il male, il male nella persona di Giuseppe Simone, ma perché? Vi chiederete, resta un mistero anche per me, ciao, anime della terra.